Musica Tanta buona per tutti ragazzi, qui mi sta Frank che vi parla Bentornati con questo nuovo video Siamo qui oggi ragazzi per illustrarvi Tutti i giochi disponibili con la line up Del Instant Game Collection Disponibile con il PS Plus Per tutti gli abbonati per gennaio 2016 Quindi andremo a vedere Tutti quanti i giochi disponibili su PS3 PS4, PS Vita Per questo mese Partiamo subito con Hardware Rivals Un third person shooter Ambientato però su veicoli Quindi come vedete avremo la possibilità Di utilizzare tutti i veicoli Più strani possibili E appunto l'obiettivo sarà Quello di uccidere tutti i nemici Quindi diciamo un death match In cui anziché usare soldati Useremo veicoli Sembra un gioco molto molto dinamico, molto colorato Quindi sarà molto divertente provarlo Sembra un titolo davvero promettente Abbiamo poi un gioco che forse molti di voi non lo conosceranno Ma che per i fan di vecchia data Insomma per i giocatori di vecchia data È sicuramente una bellissima notizia Perché abbiamo il ritorno di Grim Fandango Nella sua versione rimasterizzata Era stata annunciata qualche edizione scorsa Dell'E3 In cui appunto aveva fatto grandissimo scalpore E finalmente c'è la possibilità di rigiocare Questa avventura grafica In versione rimasterizzata appunto Gratuitamente per questo mese Passando poi a parlare di Playstation 3 I giochi che vi ho appena citato Erano per Playstation 4 Abbiamo due bei giochi Che sono rispettivamente Dragon Age Origins Ormai titolo abbastanza vecchiotto Tra virgolette Ma comunque di certo molto molto valido E inoltre abbiamo un altro bel gioco Del tutto rispettabile appunto Che è Medal of Honor Warfighter Prodotto da EA Cugino di Battlefield Perché appunto sempre della stessa casa produttrice Ed è appunto questo FPS Decisamente dinamico E molto molto avvincente Anche da un punto di vista grafico Passando poi a PS Vita Abbiamo due giochi Per la verità non molto interessanti Abbiamo Niil Umbra Che è un puzzle game a scorrimento orizzontale In 2D Di cui peraltro Ne abbiamo visti veramente Allo sfinimento per PS Vita Ogni mese esce un platform in 2D E infine abbiamo un gioco Molto particolare Che è prodotto da History Il canale diciamo su Sky Che appunto è rimpiantato Durante la seconda guerra mondiale Ed è un gioco di ruolo Praticamente strategico In cui controlleremo dei carri armati E appunto anche qui Una sorta di deathmatch Con i carri armati In cui dovremo avanzare Alla conquista praticamente di Berlino Comunque ragazzi Questi erano i giochi disponibili Con la Instant Game Collection Per tutti gli abbonati Al Playstation Plus Per il mese di gennaio 2016 Fatemi sapere con un commento Le vostre impressioni Su questa line up Fatemi sapere cosa vi aspettavate Se siete soddisfatti o meno Creiamo una bella discussione Qui sotto nei commenti Un saluto a Mr. Frank Ragazzi E ci vediamo con un prossimo video E ci vediamo con un prossimo video E ci vediamo con un prossimo video